Terza giornata, Bologna-Roma 1-0. Formazioni, Bologna-Roma, arbitro Casarin di Milano. Seconda trasferta e seconda sconfitta, sempre per 1-0 e sempre sul rigore a Bologna, dove in tribuna ci sono anche degli incidenti. La Roma è in maglia bianca, qui interessante combinazione Rocca-Prati con conclusione fuori di poco. Stessa sorte per la replica bolognese. Al quarantesimo del primo tempo, per questo intervento di Battistoni su Savoldi, l'arbitro Casarin concede il rigore, che lo stesso Savoldi trasforma. Ghetti si infila in area fra Peccenini e Cordova, ma Paolo Conti è bravo a deviare in corner. Bologna in dieci per l'espulsione di Roversi. Bella uscita volante di Conti davanti a Savoldi. Intervento in area di Cresci su Prati e rigore per la Roma. Ma Prati manda fuori il possibile pareggio. La Roma continua a premere, ma non trova il gol. E anche nel finale Buso ferma i giallorossi. Resta 1-0.